Un minuto. Grazie, dice il Presidente. Per il gruppo socialista, onorevole Brianno. Presidente, Commissario, grazie ai colleghi. Le misure tecniche sono norme che stabiliscono come e dove i pescatori possono pescare e il loro scopo principale è quello di garantire la sostenibilità delle risorse e delle attività economiche legate alla pesca. Attualmente sono contenute in oltre 30 differenti regolamenti e tale complessità e frammentazione grava sui pescatori che da anni chiedono una radicale semplificazione. Ho da sempre sostenuto che le misure tecniche rappresentassero l'occasione per tradurre nella pratica il principio della regionalizzazione e su questo abbiamo cercato di lavorare perché purtroppo fino ad oggi la regionalizzazione è stata più sulla carta che nella politica vera della Comune della Pesca. Troppo spesso i pescatori hanno percepito le norme europee come lontane e onerose da un punto di vista amministrativo ed è per questo che, Commissario, abbiamo inserito questa soluzione sulla regionalizzazione dei target che non vuol dire diminuire gli obiettivi ma vuol dire renderli coerenti con quelle che sono le caratteristiche dei vari territori. La complessità del dossier è vero, ha richiesto lunghe negoziazioni in Commissione Pesca e oggi noi abbiamo ottenuto un buon risultato. Dico solo l'ultima cosa, scusi. Mi dispiace, collega, ma dobbiamo rispettare i tempi per l'ECR. Onorevole Van Dalen. Presidente, all'interno del Parlamento si parla di collaborazione a livello europeo e si parla di ambiente e così via. Abbiamo appena parlato della...